il picnic delle tartarughe tanto tempo fa c'erano tre tartarughe babbo mamma e figliolino che un bel giorno di primavera decisero di andare a fare un picnic scelsero un bel posticino nel bosco e cominciarono a preparare le loro cose comprarono scatolette di salmone e scatolette di tonno panini lattine di aranciata insomma ogni ben di dio dopo tre mesi erano finalmente pronte si misero in cammino ciascuna con un paniere sulla schiena camminarono e camminarono e camminarono e intanto il tempo passava dopo circa diciotto mesi si sedettero per riposare ma erano impazienti di arrivare e poiché avevano già fatto metà del percorso si rimisero quasi subito in cammino dopo tre anni arrivarono nel luogo scelto per il picnic deposero i panieri per terra stesero una tovaglia e sistemarono sopra tutte le provviste a questo punto mamma tartaruga cominciò a frugare nervosamente in fondo ai panieri e alla fine esclamò con aria sconsolata ci siamo dimenticati la priscatole si guardarono l'un l'altro e alla fine la mamma disse piccolo dovrai tornare indietro a prenderlo cosa io dovrei rifare tutta quella strada protestò il figlio non c'è altro rimedio insiste babbo tartaruga non possiamo fare a meno della priscatole vai noi ti aspetteremo d'accordo ma promettete anzi giurate solennemente di non toccare nulla fino al mio ritorno si lo promettiamo solennemente dissero i genitori rassegnato il piccolo si mise in marcia e dopo un po scomparve fra i cespugli babbo e mamma aspettarono aspettarono e aspettarono e aspettarono passò un anno intero e cominciavano a sentire fame ma avevano promesso di aspettare un altro anno passò e poi un altro e a quel punto erano davvero affamati non potremmo mangiare almeno un panino chiese mamma tartaruga dovrebbe ormai essere di ritorno è vero dovrebbe essere ormai vicino mangiamo un panino per ingannare l'attesa avevano appena preso in mano un panino e stavano per addentarlo quando una vocina stizzita disse ah sapevo che non potevo fidarmi figlioletto tartaruga salto fuori da dietro i cespugli ho fatto proprio bene a non andare a cercare quella priscatole dichiaro grazie a tutti grazie a tutti